ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo tornati con una rebuilding questa volta come avete letto dal titolo con l'inter quindi la prima è stata con la juve adesso si torna a milano ok non più a torino sponda nero azzurra già faccio fatica faccio fatica a pensare di fare una carriera con l'inter ci siamo con il nostro solito allenatore kevin calia che torna ad allenare dopo la viventos questa volta va per la maglia nero azzurra strano da dire ma è così lo faccio solo per voi ragazzi però c'è una differenza rispetto al solito solito outfit sì ma guardate un po si è fatto crescere la barba il nostro mister e si è fatto la tinta è biondo andiamo avanti scegliamo l'inter difficile leggenda 4 minuti tutto il resto che levate le offerte nazionali avanti andiamo eccoci calia all'inter non avrei mai pensato di vedere questa cosa eppure eccoci qua il biondino il biondino la presentazione nella seconda squadra di minano adesso è diventata terza con l'arrivo del monza eccoci qua vabbè ragazzi è riuscito un po ne notte la tifosa andiamo avanti lasciate perdere allora ragazzi prima di proseguire con il video però vi volevo parlare dello sponsor di oggi stiamo parlando di top 11 top 11 è un gioco manageriale che potete scaricare gratuitamente dal play store e dall'app store quindi è disponibile per huawei samsung apple quindi per tutti gli smartphone in top 11 sarete sempre accompagnati dallo special one jose mourinho che vi guiderà in panchina per tutto il vostro percorso infatti oltre a giocare le partite a decidere la formazione dovrete allenare la vostra squadra attraverso degli esercizi che sceglierete e si farà tutto in 3d oltre alla formazione la cosa bella di top 11 che potrete sistemare anche il vostro stadio quindi costruirlo piano piano nel tempo in più continuando a giocare vincerete gadget esclusivi così da personalizzare la vostra squadra al meglio e potrete condividere top 11 con i vostri amici quindi si potrà giocare tranquillamente online quindi una volta sistemata al meglio la formazione deciso i vostri schemi di squadra e preparato i giocatori alle partite potrete andare a provare a vincere i campionati e le coppe europee come la champions league per scaricare top 11 come dicevi basta andare nell'app store o nel play store è davvero semplicissimo e gratuito ora ragazzi torniamo a noi ci vediamo al video vi spiego che cosa avevo in mente di fare vorrei fare come per aiuto un mercato realistico quindi andare a prendere in primis di bala e lukaku poi tutto il resto e l'obiettivo sarà come per la rebuilding con la juve vince la champions league che come sappiamo per il nuovo tecnico dell'inter calia è ormai la specialità della casa l'ha vinta con il celtic in modo clamoroso e ha riportato la juventus sul tetto d'europa che sembrava impossibile pure lui ce l'ha fatta quindi ci proveremo anche con l'inter andiamo a vedere subito la squadra intanto dell'inter vediamo cosa possiamo fare allora la mia idea sul modulo al momento è aspettare perché se dovessimo riuscire a prendere lukaku e di bala nella prima stagione cosa molto improbabile io pensavo più di prendere tipo di bala adesso e lukaku la prossima andremmo con un 3412 quindi mettere di bala dietro a lautaro e lukaku questa è la mia idea se invece dovessimo appunto prendere prima di bala questa stagione e poi lukaku possiamo rimanere con questo modulo e mettere di bala al posto di gico e poi andare a fare quel cambio modulo di cui vi parlavo allora abbiamo gosens che probabilmente lo faremo giocare subito direi perché per eserci comunque grande quindi gosens meglio e per il resto insomma non è che abbiamo ottimi sostituti magari nella realtà si ma sofifa ecco non eccezionali però la squadra c'è la squadra c'è ok abbiamo 100 milioni di budget andiamo a vedere un attimo chi possiamo prendere allora di bala e lukaku abbiamo detto sono i due colpi principali di bala lo andrei a provare a prendere subito visto che in scadenza quindi magari non dobbiamo neanche spendere troppo lukaku no non costa neanche troppo però sarà difficile provare a prendere entrambi questa stagione anche perché dobbiamo riscattare gosens difensori centrali che potremmo prendere bremer avete ragione bremer si sono d'accordo così realismo bremer invece provando a vendere devrai potrebbe essere sostituto se facciamo così proviamo subito al colpo di bala che secondo me quello che dobbiamo provare subito anche perché appunto è in scadenza quindi proviamoci immediatamente 75 milioni contando che in scadenza 78 e 6 lasciamo la clausola tanto non lo rivenderemo e accettiamo e accettiamo così primo colpo iniziamo fortissimo il contratto ce lo chiede lui per lo stipendio diminuiamo l'ingaggio ok ragazzi di bala è ufficialmente il nostro primo colpo con l'inter abbiamo iniziato fortissimo senza neanche guardare la squadra di bala lo dovevamo prendere ed è stato così ora vediamo un po di cedere qualcuno passiamo appunto alle cessioni e poi bremer al posto di devrai potrebbe essere davvero un ottimo colpo ma lukaku secondo me lo prenderemo la prossima stagione gli obiettivi che possiamo avere secondo me sono bremer e il riscatto di gozans per per questa stagione attenzione ragazzi arriva un'offerta interessantissima dal barcellona 3 milioni e mezzo più gavi allora allora questa può essere davvero una bella cosa ok proviamo a trattare proprio di 3 milioni e mezzo più 18 e mezzo 3 e mezzo 11 e mezzo ok abbiamo trovato l'accordo dovrebbero arrivare 11 milioni e mezzo più gavi perderai e a questo punto possiamo puntare su bremer quindi rinnoviamo anche il centrocampo è così possiamo cedere anche vidal per esempio arriva un'offerta per di marco intanto gagliardini non ha trovato l'accordo con il betis come vediamo di marco ci offrono 16 milioni e mezzo proviamo a chiedergli al tottenham che tanti soldi ce li ha proviamo 18 e mezzo dai di marco al tottenham voluto fortemente da conte adesso andiamo a trattare lo stipendio di gavi e dovrebbe andare bene credo vediamo ok perfetto gavi ragazzi è un nuovo giocatore dell'inter ed evrai va al barcellona arriva un'offerta dalla roma per gagliardini e ha rifiutato il betis e accettiamo senza chiedere ancora vediamo cosa riusciamo a fare perché al momento che vendiamo sia gagliardini che di marco a quel punto possiamo andare ad affondare il colpo per bremer allora direi di andare ad affondare il colpo per bremer assolutamente 47 ancora mamma mia carissimi 36 47 non abbassano minimamente 39 ok del tempo per riflettere ma in accettabile andiamo a trattare per bremer 42 perfetto finalmente hanno accettato per bremer mamma mia 42 milioni andiamo a trattare per il contratto gli diamo 50 mila gli alziamo 50 mila più 400 mila di buono si ingaggio è ridicolo vabbè ci riproveremo dopo sì ho sbagliato problema dai ci riproviamo dopo adesso aspettiamo vediamo se abbiamo qualche offerta interessante intanto vi dalle vediamo che torna la juve possiamo andare a trattare di nuovo con bremer dai prima abbiamo chiuso a 42 proviamo a fila 37 subito forti vabbè ragazzi dai c'è prima abbiamo offerto 30 non è un 46 adesso 37 meglio meglio però vabbè andiamo a trattare per lo stipendio questa volta sperando di riuscirci ci chiede lui lo stipendio meno male e facciamo così bremer è ufficialmente il nostro nuovo difensore centrale che formerà la difesa 3 con bastoni e screener quindi la bbb abbiamo allora gosens quanto vorrà atalanta per riscattarlo 32 9 51 ce ne chiedono sono tanti e 42 hanno bisogno di tempo prima di abbassarli a 45 accettano ok meno male e adesso direi di andare a trattare per lo stipendio 100 mila più 600 mila di buono si ingaggia vediamo che ci dice 105 dai accettiamo allora abbiamo questo ultimo colpo da fare ma nel frattempo abbiamo una supercopa con la juventus quindi andiamo a simularla e vediamo allora quando abbiamo fatto la carina con la juve l'abbiamo persa contro l'inter vediamo adesso cosa faremo vinciamo ok l'inter si conferma insomma contro juventus quindi vinciamo il primo trofeo stagionale che iniziamo bene questa stagione proviamo a prendere gravenberg vai inseriamo vecino nella trattativa allora proviamo a fare un 25 milioni più vecino ok dovremmo accettare tranquillamente avremo ad abbassare questa visto che ci mettono una clausola ok allora 23 milioni più vecino andiamo a trattare per lo stipendio e se riusciamo a prendere gravenberg abbiamo ufficialmente finito il mercato della prima stagione secondo me è davvero ottimo accettiamo chiedimi lo stipendio si meno male ok ragazzi accettiamo gravenberg è ufficialmente il nostro ultimo colpo di mercato quindi questi sono i nostri colpi adesso ragazzi direi di andare a simulare tutto fino alla fine e quindi ci vediamo direttamente a fine stagione vediamo cosa è riuscito a fare questa squadra allora ragazzi finita la stagione valutiamo un po' ancora non abbiamo visto la classifica però analizziamo la stagione così dal calendario abbiamo vinto la supercoppa con la juve poi abbiamo iniziato bene con la fiorentina e il parigi con il napoli in champions abbiamo perso con il real ma tutto il resto andava bene poi un mese di ottobre un po' così anche con lo Shakhtar novembre disastroso in champions e in campionato va bene a dicembre tutte vittorie ma usciamo dalla Champions League non abbiamo passato i gironi non capisco come sia possibile cioè nel senso non per i risultati ma per la squadra che avevamo poi a gennaio togliendo il 3-0 con la juve davvero bene anche in coppa da febbraio arriva la sconfitta in coppa e iniziano a cambiare un po' le cose perché è vero che vinciamo tutto però guardate a marzo è un mese disastroso usciamo dalla coppa usciamo dall'europa league contro il lione e in campionato iniziamo a fare fatica guardate pareggio con l'empoli vinciamo e poi pareggio e sconfitta allora come dicevate voi all'inizio sembrava scudetto assicurato adesso ho i miei dubbi vediamo andiamo a vedere un po' come abbiamo concluso questa stagione di serie A abbiamo vinto il campionato è ok è ok abbiamo vinto il campionato abbiamo 47 di valutazione allenatore non capisco perché Dzeko ha giocato Dzeko ha giocato a questo punto chi non ha giocato questa è la squadra Dzeko ragazzi ho l'impressione che come dicevamo prima che probabilmente non abbiamo visto ho l'impressione che si sia rotto qualcuno ma non abbiamo più l'autaro non abbiamo più l'autaro che cosa è successo c'era la clausola per l'autaro a quanto pare quindi questo è il motivo non avevamo più l'autaro alla juventus lo andiamo a ricomprare allora ragazzi proviamo a riandare a prendere l'autaro prima della fine della stagione perché è improponibile queste cose beh l'obiettivo era formare il tridente di bala lautaro lukaku e quindi dobbiamo prenderli per forza 130 ok ragazzi cioè dobbiamo andare a riprendere l'autaro è incredibile la cosa facciamo così perfetto l'autaro ritorna all'inter adesso ci vediamo la seconda stagione allora ragazzi siamo alla seconda stagione dopo il colpo di scena l'autaro che finalmente è arrivato è ritornato in maniera azzurra abbiamo di budget vediamo un po 190 milioni quindi lukaku non dovrebbe essere un problema stavo pensando visto che sono andati via diversi giocatori e ne rientrano altri come per esempio la zaro satriano esposito salsedo sensi ok sto pensando di valutare appunto l'idea di cambiare modulo quindi passare a un 4312 in questo caso cosa dovremmo fare bastoni e scrignar in difesa di bala lo mettiamo trequartista e dice andiamo a mettere un bel lukaku questa sarebbe la squadra così abbiamo bremer in panchina che può davvero essere interessante quando entra sensi gavi e granberg per il centrocampo darmian e loro insomma secondo me ci stanno allora abbiamo 190 milioni dobbiamo prendere lukaku e un portiere su tutti quindi andiamo a prendere lukaku prima 84 sono tanti e 84 92 88 dai ok a fare fatto andiamo a trattare per lo stipendio ci chiede lui lo stipendio e se la bassa ritorna con l'amore se la bassa e c'è il ritorno di lukaku ragazzi abbiamo finalmente il tridente che aspettavamo ovvero di bala lukaku lautaro ragazzi ci siamo ci siamo guardate un po di bala lukaku lautaro facciamo così andiamo a prendere un'ana che il portiere ci serve 42 53 42 3 51 ok abbassano 45 ok un anno a 45 non mi piace assolutamente come portiere ma per realismo prendiamo lui lo stipendio non ce lo chiede lui ma glielo alziamo a 50 mila vediamo cosa ci dice ok va bene un anno è il nostro nuovo portiere adesso quanto abbiamo abbiamo 54 milioni ancora arriva un'offerta per salsedo che accettiamo tranquillamente e gioco lo diamo lo diamo perché se no non ci facciamo più nulla accettiamo 18 milioni così andiamo avanti aspettiamo che entrano questi soldi anzi prima andiamo a prendere gun gun prima che rinnova perché secondo me sarà un ottimo colpo centrocampo 31 anni è vero però ci porta esperienza e due tre anni ancora dal titolo di può fare mentre offrire 40 milioni attenzione ci chiedono sensi potrebbe essere un'idea mi piace però abbassiamo 12 8 più sensi 17 8 14 8 dai c'è 7 5 accettiamo va bene va bene mi piace l'idea andiamo a prenderlo subito non ci chiede lui lo stipendio secondo me lo possiamo far abbassare così perfetto gun dugan è il nostro nuovo rinforzo e attenzione adesso quanto abbiamo abbiamo 35 milioni e dovrebbero arrivare dei soldi per un attaccante una riserva c'è la no gru lo mettiamo in panchina e qua ci mettiamo gun dugan è una bella squadra è una bella squadra ci serve un attaccante visto che gioca andrà via 26 anni può fare anche l'esterno secondo me martial è una buona idea come sostituto 40 milioni che dobbiamo offrire accettano così forse vogliamo finire vediamo se non vuole fare insomma al titolare perché noi cerchiamo quello che ok vuole fare il turn over accettiamo ignoriamo non ci chiedono lo stipendio ma io facciamo abbassare 120 più 500.000 perfetto martial è il nostro nuovo attaccante di riserva e non so se andrà a prendere un altro a questo punto visto che abbiamo 18 milioni però secondo me la squadra c'è ragazzi la squadra c'è 18 milioni non ha senso andare a prendere qualcuno che giochi giusto per a meno che non andiamo a prendere un un terzino forte ok arrivano delle offerte attenzione arrivano delle offerte satriano accettiamo bastoni rifiutiamo lazaro accettiamo chi fa prima va bene non c'è nessun problema accettiamo esposito si accetta così gosens ci offrono 55 milioni attenzione 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 potremmo provare a vendere gosens e andare a prendere un bel terzino proviamoci dai però se ci danno di più proviamo a chiedere 70 milioni ok ci danno 70 milioni così allora arriveranno terzino al posto di gosens sicuramente quanto vuole il real per teo e potremmo provare potremmo provare allora abbiamo venduto un po di giocatori prima della supercoppa e abbiamo al momento di budget 87 milioni ci serve ancora qualcosa per arrivare a un terzino sinistro forte al momento dice c'era non vuole adesso lo sistemiamo nazaro venduto ok satriano anche andiamo a provare a prendere un bel terzo di nostra difficilmente riusciamo a prendere teo queste cifre però ci proviamo sapete cosa vi dico prima inserire il turco 100 milioni più turco attenzione ci devono pensare noi però abbiamo una supercoppa da giocare e dobbiamo andare a mettere un terzino improvvisato ci mettiamo a darmian così e andiamo a simulare andiamo a simulare di nuovo la supercoppa nuovamente contro la juve come l'anno scorso e vinciamo anche quest'anno ok aspettiamo una bella risposta dal real madrid intanto perché con teo sarebbe un altro discorso inaccettabile attenzione 104 ragazzi sapete cosa vi dico accettiamo e andiamo a trattare per teo vedere teo con la maniera azzurra non si può sarà impossibile sì ci chiedere lo stipendio meno male meno male se lo abbassa tantissimo e ragazzi teo Hernandez è il nostro nuovo terzino sinistro mamma mia clamoroso questi sono i colpi di questa stagione c'è guardate che mercato stiamo facendo e adesso abbiamo una rosa impressionante davvero impressionante tanta roba davvero ragazzi tanta tanta roba adesso non possiamo fare più colpi perché non abbiamo un euro non faremo cessioni e quindi direi di andarci a vedere direttamente a fine stagione sperando di fare davvero meglio attenzione che cosa ho visto al mondo in coppa quindi visto che non abbiamo budget e nulla io ragazzi direi di andarci a vedere direttamente a fine stagione che è qua sperando di fare meglio dai ci vediamo fine stagione ragazzi siamo arrivati a fine stagione analizziamo un po anche questa e vi faccio vedere cosa siamo riusciti a fare allora abbiamo iniziato davvero bene vincendo la supercoppa come già avete visto iniziamo bene in campionato arriva la prima sconfitta con la juve e in champions iniziamo davvero malissimo davvero malissimo poi dopo la sconfitta con napoli cambia qualcosa perché iniziamo a vincere anche se pareggiamo un po mesi novembre perfetto in champions finalmente recuperiamo perdiamo solo il derby a dicembre e quindi passiamo agli ottavi di champions a gennaio le vinciamo tutte passiamo in coppa italia quindi sia con il monza che con il minan poi arriva la champions a febbraio un mese di febbraio particolare perché abbiamo giocato tre volte con l'atalanta passando in coppa e appareggendo in campionato vinciamo l'andata di champions con il Siviglia perdiamo solo con il verona poi vinciamo anche il ritorno con il Siviglia 1 a 0 ok quindi passiamo ai quarti e in campionato procediamo ad aprile perdiamo due in campionato vinciamo con il lione ai quarti di champions league quindi ci qualifichiamo il semifinale vinciamo l'andata con il lipsia e al ritorno vinciamo quindi in questo momento ci troviamo in finale di coppa italia contro il napoli l'ultima di campionato contro il minan da giocare e in finale di champions contro l'united allora io andrei a vedere la situazione in campionato così capiamo se quella con il minan sarà importante oppure no vediamo un po allora in campionato siamo terzi ok quindi in campionato stagione ma non capisco come abbiamo potuto fare così male ma va bene quindi con il minan non sarà importante visto che il minan è già campionato in italia sarà importante la coppa italia con il napoli ma soprattutto la champions quindi andiamo a simulare fino alla 25 vediamo cosa facciamo in finale di coppa italia e vinciamo 3 a 0 quindi altro trofeo portato a casa con il minan già campionato in italia perdiamo quindi derby perso e non mi dispiace ragazzi ci siamo la finalissima di champions l'obiettivo è un passo come per la juve abbiamo la possibilità di vincere la champions dopo solo due stagioni questa è la squadra attualmente abbiamo davvero una squadra fortissima onana danfred screen a bastoni teo gundu gambrosvic barella di bala lucaco martinez e poi in panchina sono questi insomma c'è davvero una squadra forte 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 peccato i difensori centrali che sembrano stanchi però facciamo giocare loro non importa che voglio provare quindi abbiamo vinto la coppa italia siamo terzi in campionato abbiamo la possibilità di giocarci la champions league dopo aver iniziato davvero malissimo l'anno scorso abbiamo vinto il campionato della supercoppa in realtà la supercoppa anche quest'anno quindi già abbiamo in due stagioni quattro trofei proviamo a prendere il quinto ovvero quello più importante di tutti la champions league united inter ci proviamo eccoci è tutto pronto per united inter ragazzi iniziamo buona partita a tutti proviamo questo tridente di bala lautaro lucaco che finora sta funzionando visto che ci ha portato fino a qua vedremo se funzionerà anche nella partita più importante della stagione credibile 1 a 0 bruno fernandez ho detto non tira da un po tirano da lì tira pensavo fosse fuori united 1 inter 0 voglio vincere cioè mi farebbe piacere vedere l'inter perdere la champions voglio vincere per evitare di fare un'altra stagione però barella serve danfred se lo fa benissimo di bar di bar serve lottaro lottaro la riapriamo subito 1 a 1 lukaku di bar e lottaro decisivi anche in finale di champions ha segnato il toro 1 a 1 1 a 1 lukas c'è gundogan su di lui gundogan la tiene teo teo vola teo vola teo su bambissanca vola teo però servire lottaro c'è di là è tutto vuoto vai lottaro no lì lukaku attenzione di bala di bala paolo paolo traversa clamorosa e poi barella credibile barella incredibile che occasione che occasione per di bala ma ancora una volta il tridente funzionava eh avevamo fatto tutto loro mamma mia ragazzi mamma mia brozovic lukaku provo a servire paolino paolino lukaku lukaku romelu lukaku e 2 a 1 l'abbiamo ribaltata ancora di bala lukaku questa volta prima di bala lottaro e ora di bala lukaku sono ancora loro sono ancora loro brozovic ce la tiene gundogan aspetta teo arriva il treno teo il treno teo il treno teo il treno teo che calcia è egoista guanteo eh poteva metterlo dietro ma finisce qua il primo tempo è 2 a 1 per l'inter uh ronaldo cristiano la palla rimane lì è 2 a 2 è 2 a 2 col pitolo united con sancho 2 a 2 palo di ronaldo abbiamo provato a fare di tutto ma abbiamo preso il gol subito non siamo entrati con la testa giusta in campo lautaro vede teo 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 la mette in mezzo ha segnato lukaku siamo di nuovo avanti subito doppietta di big rom 3 a 2 lukaku chiuso anche cristiano danfris attenzione di bala la perde attenzione rushford 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 la palla rimane lì è 3 a 3 ha segnato cristiano non finisce più questa partita ha segnato cristiano errore nostro errore nostro abbiamo provato a fare di tutto ma non va si va a supplementare ha segnato lautaro martinez si era un attimo bloccato quindi non so se l'avete visto ha colpito il toro ha colpito il toro un gol pazzesco e 4 a 3 al centosedicesimo ve lo faccio rivedere che forse si è bloccato si era bloccato un attimo una live ve lo faccio rivedere teo serve lautaro che calcia e la butta lì al centosedicesimo e 4 a 3 l'inter ora occhio ora occhio griezmann attenzione no no eh griezmann attenzione griezmann fa tutto da solo bastoni chiude poi danfris e poi di bala e poi paolo e poi paolo e poi paolo se ne va e serve big rom lukaku per chiuderla lukaku per chiuderla lukaku per chiuderla lautaro la chiudiamo così in quattro minuti doppietta di lautaro martinez in quattro minuti più quello di prima tripletta in finale di champions per lautaro e il tridente ha funzionato in modo meraviglioso ha funzionato in modo meraviglioso l'inter è campione d'europa lo possiamo dire in quattro minuti grande azione questa gran pala di bala per lukaku attenzione aspettiamo solo il fischio finale che arriva adesso l'inter è stata portata da calia nuovamente sul tetto d'europa vinciamo con calino panchino la champions league 5 a 3 contro l'united è una gran partita questa gran partita nei minuti finali abbiamo davvero spaccato tutto con il tridente di bala lautaro e lukaku un tridente ragazzi che ha funzionato in in maniera incredibile perché abbiamo giocato solo la finale di champions e hanno fatto tutto loro quindi chissà nella realtà potrà davvero essere così decisivo questo tridente vedremo vedremo anche se sarà davvero ufficiale quindi lo scopriremo presto l'inter vince la champions l'abbiamo portata sul tetto d'europa la champions è diventata la specialità di calia dopo il celtic arriva la juventus arriva l'inter l'impresa l'impresa più clamorosa sicuramente quella con il celtic però ecco queste non sono da sottovalutare ed è bastoni il capitano pronta ad alzarla arriva arriva bastoni grazie l'inter è il campione d'europa ragazzi l'abbiamo portata sul tetto d'europa io vi ringrazio per aver visto questo video grazie davvero per il supporto come sempre a tutti quanti spero che questi video vi possano piacere mi raccomando lasciate mi piace al video commentate iscrivetevi al canale seguitemi anche su tutti gli altri social per non perdervi nessuna novità e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi vi lascio con bastoni che alza la coppa forza Milan